Ciao sono la dottoressa Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi, dei profilattici, o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso, a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. 10 preservativi Mr. Sitz, 57 mm, profilattici sottili e disponibili in 7 misure diverse per soddisfare le esigenze di tutti. I Mr. Sitz sono i nuovi preservativi su misura, comodi, sottili e performanti. La taglia 57 mm è una delle taglie intermedie ma più comode delle altre del marchio Mr. Sitz, ideale e consigliata per chi ha una circonferenza misurata a metà dell'asta con il pen in erezione, tra i 13 e i 14 cm. Con Mr. Sitz avrai un preservativo che calza perfettamente sulle dimensioni del tuo pene, assicurandoti una prestazione comoda, sicura e piacevole per tutto il rapporto. Un preservativo della taglia giusta è fondamentale per un sesso sicuro. Se troppo grande non corri il rischio che si sfili durante il rapporto, se troppo stretto non rischi che stringa così tanto da farti perdere l'erezione. Grazie al suo spessore di soli 0,05 mm, inoltre, potrai godere di un contatto pelle su pelle per vivere intensamente tutte le sensazioni di piacere. Grazie allo spessore ridotto e ad una forma anatomica e perfettamente adattabile a qualunque misura del pene, la stimolazione sarà più intensa e soddisfacente sia per lei che per lui. Mr. Sitz 57 mm è disponibile in tre diverse confezioni, tre pezzi, per provarli e avere conferma che sia questa la taglia giusta, dieci pezzi, per avere una piccola scorta, trentasei pezzi, per non rischiare di rimanere senza. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato.